Ok, un saluto a tutti ragazzi, sono sempre il vostro Vincenzo, con tutti i ragazzi siamo su Chicken Gun Ragazzi direi di andare... oh no 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 Aia Niente Ragazzi oggi proveremo una nuova arma che è questa, che l'ho presa io Ci stiamo sbrigando parecchio però Ecco qui altre Prendiamone il più del dovuto Vai 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 Ok Là Ah là c'è, eh sì Aia, 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 aia Via, via, via Uh Aia, eh vabbè E vabbè ragazzi, c'è un prossimo episodio di Chicken Gun Grazie a tutti